Buongiorno, ben trovati. Martedì 12 giugno 2018, nuovo appuntamento quotidiano, la nostra rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Oggi in edicola, come sempre, l'apertura è dedicata alle prime pagine dei giornali abruzzesi. Iniziamo con il centro, con l'edizione di Pescara, si parla di lavori nella zona sud del capoluogo adriatico. Vedete il titolo in alto, vincono i balneatori via le ruspe, Pescara-Rivera Sud dopo le proteste. Il comune ferma i lavori e poi d'obbligo la pagina dedicata al calcio a 5, all'acqua e sapone, che passa per 4 a 2 a Bassano del Grappa sul campo della Luparense e conquista lo scudetto del calcio a 5. Terzo tricolore per la nostra regione dopo i trionfi del Monte Silvano nel 2010 e del Pescara nel 2015. Poi vedremo anche le immagini della festa dei giocatori dell'acqua e sapone Unigross. Vediamo le altre notizie che riguardano Pescara e la provincia. Scandalo Menze, la ASL convoca tutti i presidi. E poi vedete più in basso, la provincia vende tutto per salvarsi. E poi la cronaca, Montesilvano pesta in strada l'ex moglie e finisce in cella. Ovviamente parleremo, daremo grande spazio anche oggi, così come era stato ieri, anche con le nostre dirette di domenica notte e della prima mattinata di ieri. Parleremo delle elezioni, questa volta con i risultati davvero tutti definitivi. E tra l'altro sono stati confermati sette sindaci nel Pescarese vince la continuità stop al centro-destra. Vediamo anche in basso Teramo e Silvi, Teramo ballottaggio tra Morra e Dalberto. Anche a Silvi si va al secondo turno, Teramo e Silvi, lo ricordiamo, sono gli unici due centri della nostra regione con più di 15.000 residenti. Dunque dove era previsto alla vigilia il ballottaggio che si è materializzato proprio nella giornata di domenica. Ma non c'erano dubbi con tanti candidati che si arrivasse al secondo turno. Sono i partiti in Abruzzo, alle urne vincono le civiche, anti-movimento 5 Stelle. Vediamo la prima pagina del centro, edizione di L'Aquila Vezzano Sulmona, presa la banda ai Benzinai. L'Aquila tentano due volte il colpo, poi vengono inseguiti e arrestati. 107 candeline sulla torta di nonno Antonio, originario di Pozza di Preturo, quest'uomo che festeggia un compleanno da record, davvero auguri, 107 candeline per nonno Antonio. E poi, a proposito di elezioni, Perozzi, unica donna sindaco, le comunali nell'Aquilano, fascia rosa nel municipio di Castella Fiume. Siamo all'Aquila, l'ambasciatore di Francia visita le anime sante, e poi ci trasferiamo ad Avezzano, zona pedonale via libera, dalla soprintendenza. E poi ancora, Castel di Sangro ai bimbi frutta con le etichette di tre anni fa. Vediamo anche la prima pagina di Teramo del centro, ovviamente il titolo principale riguarda il capoluogo di provincia, il ballottaggio per il nuovo sindaco di Teramo. Vedrà di fronte Morra del centro-destra e Dalberto del centro-sinistra. I Cinque Stelle terzi lanciano accuse, Silvi sfida Comignani-Scordella. A proposito delle elezioni di Teramo, vedete i numeri del primo turno. Giandonato Morra ottenuto il 34,6%, Gianguido Dalberto il 21,1%. L'altro ballottaggio vedrà di fronte Francesco Comignani a Silvi con il 35,6%, poco più indietro Andrea Scordella con il 33,3%. Poi ascolteremo più avanti anche le dichiarazioni dei candidati che parteciperanno al ballottaggio. Vediamo le altre notizie, Gran Sasso, fumo dalle lampade, traforo chiuso per tre ore. E poi, ospedale Mazzini, sciopero al laboratorio analisi. Questo l'altro titolo che riguarda la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Andiamo a vedere anche l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, con una notizia tragica che arriva dal Chietino, Briaco alla guida, morti due giovani, Tollo piange le vittime di 19, 26 anni, il conducente ferito positivo a droga e alcol. Siamo a Chieti, sarà demolito il palazzo pericolante che pende di oltre 60 centimetri, Palazzo Trinchese, nello specifico, e poi a Guardia Grele, i droni cercano lo scomparso di un anno fa. Ancora il ciclismo di Guglielmo, al giro Under 23 dopo l'incidente. Restiamo a parlare poi, e torniamo anzi, a parlare di elezioni. Di Fonse e suo il Paese Rosso, comunali nel Chietino Torino di Sangro, al centro-destra, dopo 25 anni. Questa è una notizia particolare che arriva proprio dalla zona frentana per quanto concerne le elezioni. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero Teramo e Silvi, sindaci al ballottaggio. E poi vedete le percentuali di voto del primo turno. E poi c'è il punto dal test, un quadro per nulla chiaro. Si fa riferimento ovviamente ai dati delle elezioni. E poi questa notizia che arriva dal Chietino, ubriaco e drogato alla guida, ammazza due giovani. E poi in alto vediamo i richiami delle notizie dei servizi di sport. Partiamo dal Pescara, il Delfino in pressing su tre rinforzi, tutti giovani. Poi il calcio a 5, grande Acqua e Sapone conquista lo Scudetto. E poi il calcio con la presenza ieri a Pescara di Allegri, tecnico della Juventus. Full Immersion a Pescara per i giovani della Curi Pescara. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano della città, tutta incentrata ovviamente sulle elezioni. Vedete le foto in alto, in grande, dei due candidati sindaco di Teramo, che si affronteranno nel ballottaggio di domenica 24 giugno. Giandonato Morra e Gianguido D'Alberto. Più in basso, in piccolo, i due candidati che parteciperanno al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Silvi, Francesco Comignani, e il candidato del centrodestra a Silvi, Scordella. Saranno loro a giocarsi proprio la poltrona di sindaco. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Parliamo e andiamo a vedere i titoli dei quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Si parla anche in questo caso di elezioni, un test comunque indicativo, quello che ha riguardato quasi 7 milioni di elettori nel nostro Paese. Si è astenuto però un elettore su due dei 5 stelle, il vantaggio del centrodestra nei comuni, perché il risultato globale ha visto una buona performance da parte del centrodestra. E poi, migranti, si offre la Spagna. Salvini esulta, azzare la voce paga. Aquarius resta ferma in mare. Valencia è un'idea folle, dubbi sulla sicurezza del viaggio. Toninelli, accompagniamo noi la nave. E poi, vediamo un altro titolo, la cronaca in questo caso. La modella Sciolet fu veramente rapita, condannato a 16 anni il polacco che la rinchiuse. Andiamo a vedere Repubblica, Aquarius, la lezione spagnola, altri 937 migranti verso l'Italia, i nostri porti vietati. Sanchez, il neo, primo ministro spagnolo, accoglie la nave. Voto locale, la linea dura premia i leghisti. Il PD torna in gioco. La stampa di Torino, l'Aquarius in Spagna. Salvini esulta, ma attenzione, con il Movimento 5 Stelle sui porti chiusi. Vediamo anche il sole 24 ore. Piano Consob per spingere le imprese verso il listino. E poi, una notizia che riguarda la Borsa di Milano, perché c'è stata grande attenzione nelle ultime settimane, prima della formazione del nuovo governo, e anche da pochi giorni con il nuovo governo, il governo Conte, in carico e al lavoro, con la Borsa che ieri ha avuto un balzo positivo rilevante, chiudendo con il più 3,4% sulla scia dei numeri positivi delle banche. Il fatto quotidiano, nave in Spagna. E la prossima, la linea dura del governo, smuove Madrid, ma una tantum, l'Europa tace. E poi vedete il titolo che riguarda le elezioni, il crollo 5 stelle, resuscita il PD e il centrodestra. Tutto leghista. Ma la giornata di oggi è importante anche per un altro fatto, perché ci sarà a Singapore il vertice dell'ultimatum tra il presidente americano Donald Trump e Kim Hoon, che è il presidente della Corea del Nord. Un incontro storico tra i due presidenti. Il manifesto, delitto d'asilo, si parla della nave Aquarius. La Spagna accoglie la nave Aquarius e respinta dall'Italia. Matteo Salvini canta vittoria a fare la voce grossa paga. Critiche per la chiusura dei porti a profughi e migranti arrivano dall'ONU e dall'Unione Europea. Mattarella, la Repubblica abbia un volto umano. Le frontiere non siano diaframmi, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E poi vediamo un altro titolo sul manifesto che riguarda le elezioni amministrative. Il PD rifiata, non siamo morti. Vediamo il messaggero, la prima pagina nazionale. Lega piglia tutto. Frana il Movimento 5 Stelle, il caso Raggi. Centrodestra vince, un centrodestra sempre più a trazione. Leghista anche nella nostra regione, soprattutto a Silvi, dove la Lega ha ottenuto un ottimo risultato portando al ballottaggio il candidato del centrodestra. Tornando invece alla questione migranti, la Spagna apre i porti. Offerta di Sanchez, sbarchi a Valencia. Palazzo Chigi, Aquarius partirà scortata da nostre vedette. Salvini alzare la voce paga. Ogni paese accolga le sue ONG e apre solo i profughi sulle navi militari. E poi vi dicevo del vertice tra Kim e Trump summit di lusso sul nucleare, ma è un incontro davvero storico tra i presidenti dei due paesi. Vamos la playa, scrive il tempo. Vince Salvini, la Spagna accoglie la nave. Il governo tiene duro sui 629 profughi. Profughi, vediamo libero, non c'è porto per tutti. Chiusi gli scali e anche le bocche di sinistra. E poi vedete più in basso, Salvini e l'eroe. Ne si spezza, ne si piega. E a proposito di Salvini, il vento leghista fa volare il centrodestra. I clini spariscono alle elezioni locali. Il PD perde colpi, ma resiste. Vediamo la verità. L'Italia sbarca gli immigrati, Aquarius dirottata in Spagna. E poi l'unica extra comunitaria accolta da Monsignor Ravasi. Vedete questo il titolo con corredo di foto. E poi il cerchio si chiude, indagata. Lady Leopolda, leggiamo da questo titolo della verità, l'organizzatrice della Kermesse Renziana, accusata di bancarotta con la madre dell'ex premier. Vediamo il quotidiano della CEI. Avvenire scartati, bloccata la nave, altri 900 in Sicilia. Tutti i porti chiusi per l'Aquarius con 629 migranti. Valencia si offre di accoglieri, proteste e condanne. Ma Salvini, alzare, la voce paga. E poi le comunali dividono. La Lega va su, il Movimento 5 Stelle, giù. Vediamo anche il secolo XIX. La Spagna accoglie l'Aquarius. Salvini, alzare, la voce paga. Ma cresce la tensione con Di Maio. E poi Liguria, ora Toti. Si smarca dai partiti Toti, il presidente della regione Liguria. Il piano via ai gruppi arancioni. Scaiola il suo schema è una patacca. A Imperia vinco. Dunque, ovviamente, il grande risultato della Lega nel centro-destra sta creando malumori anche da una certa parte proprio del centro-destra. Siamo al mattino di Napoli. Sbarchi la nuova strategia. Il Viminale continueremo, dice, a salvare vite umane, ma solo con navi militari. Stop alle missioni delle ONG. E poi, una notizia che riguarda il calcio-mercato. Il mattino di Napoli, ovviamente, focalizza la sua attenzione sulla formazione partenopea. Verdi, il jolly che cambia il Napoli. Ancelotti, io ripartirò da Sarri, ha firmato il contratto. Lo vedete nelle mani del presidente De Laurentiis, l'ex giocatore del Bologna. Verdi, che era stato già cercato dal Napoli nel mercato di gennaio. Torniamo al centro, torniamo alle vicende di casa nostra. La provincia vende appartamenti e terreni e il piano per salvarsi. Parliamo, in questo caso, della provincia di Pescara. Servono 4 milioni entro l'anno. Presto l'avvio delle procedure per l'aglienazione dell'ex Napolplast e della sede di via Battisti. E poi, opportunità fonti rinnovabili. Convegno di elettricità futura, oggi nella sede di Confindustria Pescara. E poi, pensionato per seguita il vicino, il giudice si tenga a distanza. Villaraspaggressione per motivi di giardinaggio. Strici pedonali da rifare via ai lavori in mezza città. Siamo alla pagina di Pescara, ma probabilmente dovremmo tornare indietro per andare a vedere le pagine che riguardano la cronaca delle nostre regioni. E soprattutto, tutto quello che riguarda le elezioni politiche. Poi torneremo a vedere le pagine delle nostre province. Ma ovviamente c'è grande spazio, ecco qui, pagina 2, c'è grande spazio, ovviamente, sulle elezioni comunali che si sono tenute anche nella nostra regione. Dunque, andiamo giustamente per ordine. Elezioni comunali. I sindaci eletti in Abruzzo, scelti 29 primi cittadini. Ecco, volti, nomi e voti. Dalla percentuale record di Cristina Di Pietro, che fa il bis a Civitella del Tronto, alla sorpresa di Cantoacce e Pagatti. Per Teramo e Silvi, se ne ripara il 24 giugno, lo abbiamo già detto. Vediamo anche l'altra pagina. Elezioni comunali dalle urne un vincitore. Le civiche anti Movimento 5 Stelle. Il centrodestra perde un'occasione d'oro, mentre il PD tira un sospiro di sollievo. La Lega non fa l'esploi. Il Movimento 5 Stelle prende coscienza e c'è chi lancerà la sfida. Ma vediamo quali sono i nuovi e primi cittadini nei comuni in cui si è votato nella nostra regione. Come detto, a Teramo si andrà al ballottaggio. A Baretta il nuovo sindaco Leonardo Gattuso. A Castella Fiume Giuseppina Perozzi, ovviamente molti sono sindaci rieletti. A Lucoli Walter Chiappini. A Massadalbe Nazareno Lucci. A Silvi si andrà al ballottaggio. A Nocciano il sindaco Lorenzo Mucci. A Pianella è stato riconfermato primo cittadino Sandro Marinelli. A Pietranico Francesco Del Biondo. A Roccamorici Alessandro D'Ascanio. E poi a Villa Santa Maria Giuseppe Finamore. Ad Albadriatic Antonietta Casciotti. A Civitella del Tronto Cristina Di Pietro. Che ha addirittura portato a casa l'89,33%. Una percentuale record, quasi un pelbiscito per il neosindaco. Controguerra Franco Carletta. E poi vediamo nell'altra pagina per vedere quali sono i nuovi e primi cittadini. A Auricola Antonio Paraninfi. A San Benedetto dei Marsi Quirino Dorazio. A Scanno Giovanni Mastro Giovanni. A Bussi il nuovo sindaco è Salvatore Lagatta. Che è stato riconfermato dunque primo cittadino. A Cepagatti Gino Cantò. Alla prima elezione da sindaco. All'Oreto Prutino è stato riconfermato Gabriele Starinieri. A San Valentino Antonio D'Angelo. A Turi Valignani Giovanni Placido. A Fallo Alfredo Pierpaolo. A Frisa il nuovo sindaco è Nicola Labrozzi. A Pizzo Ferrato è stato riconfermato Palmerino Fagnilli. A Torino di Sangro Nino Difonso. E poi andiamo più in basso. Ad Atri il nuovo primo cittadino è Pier Giorgio Ferretti. A Castilenti Alberto Giuliani. A Montorio Mario Facciolini. A Nereto Daniele Laurenzi. Andiamo avanti. Morra D'Alberto al secondo turno. Rocchetti è di Dalmazio fuori. Il candidato di Alleanza Civica e PD prevale nello sprint notturno a tre. Il 24 giugno, come vi dicevo, ci sarà il ballottaggio. L'aspirante sindaco del centro-destra incassa quasi il 4% in meno rispetto alla coalizione. Rocchetti, il risultato elettorale è drogato. L'accusa del grillino che va all'attacco. Il centro-destra ha spostato voti sul centro-sinistra per avere un avversario facile. Ha detto il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Teramo, Cristiano Rocchetti. Rocchetti. Vediamo un'altra pagina che riguarda sempre Teramo. I due rivali contenti per i loro risultati. Difficile fare di più, hanno detto Morra e D'Alberto. E vediamo anche in basso gli altri risultati, le altre reazioni, soprattutto delle altre liste. Al centro per Teramo e azione politica, l'ex assessore regionale di Dalmazio, dice il voto ci premia per una scelta politica forte. E poi l'altro esponente di area centro-sinistra, Cavallari, di Bella Teramo, pronto a ragionare su una possibile alleanza. E poi, Popolari con Teramo e Abruzzo insieme, Covelli, riunirò le emiliste per valutare eventuali intese. Perché ovviamente si guarda ad eventuali intese in vista del secondo turno. I volti nuovi non sfondano Cozzi e Sbraccia, è più votati. Siamo sempre a Teramo, l'analisi del voto con le preferenze ottenute dai vari candidati. Ma ricordiamo che al ballottaggio, per quanto riguarda ovviamente i candidati sindaco, andranno Morra con il 34,6%, e Gianguido D'Alberto con il 21,1%. E da Teramo ci spostiamo a Silvi, Comignani in testa al primo turno, il leghista Scordella lo tallone. Entrambi i candidati hanno preso più voti di quanti ne ottennero centro-sinistra e centro-destra nel 2014. Movimento 5 Stelle, primo partito, ma questo non basta la Stolfi per andare al ballottaggio staccatissimo del vecchio. L'ex sindaco, recuperiamo il voto degli astenuti, ha detto l'ex sindaco del Comune di Silvi, Francesco Comignani. Tra l'altro, lo ha detto proprio ai nostri microfoni, più avanti lo ascolteremo. Ha parlato proprio dai microfoni di TV6 di questa astenzione piuttosto grande a Silvi, alta rispetto alle precedenti elezioni. Più avanti lo ascolteremo, vediamo ancora l'analisi del voto a Montorio Alvomano con Facciolini, nuovo sindaco, una svolta epocale. L'imprenditore porta una lista di centro-destra a imporsi per la prima volta. Casciotti torna dopo 14 anni e sfonda ad Alba Adriatica il nuovo sindaco e Antonietta Casciotti. E poi a Nereto, Laurenzi stacca tutti, giunta già pronta con due donne, a Civitella del Tronto, l'abbiamo visto prima. E' proprio il caso di dire che c'è stata una conferma bulgara con il neosindaco che ha ottenuto quasi il 90% delle preferenze, 89.33. E siamo ad Atri, Ferretti è stato un risultato strepitoso, il nuovo sindaco sottolinea la continuità con l'amministrazione uscente, quella del sindaco uscente appunto a Stolfi, Stolfi il più votato, concetti del Movimento 5 Stelle. Bene, così. Notalesco premia di Bonaventura, questo è l'altro titolo che riguarda il comune sempre in provincia di Teramo, a Castilenti, Vittoria Netta, per Alberto Giuliani. Siamo ad un'altra pagina che riguarda le elezioni, dalla provincia di Teramo ci spostiamo alla provincia di Pescara, sindaci uscenti premiati riconfermati 7 su 9, il centro-destra si ferma, Nocciano il ritorno di Mucci, ora siamo più compatti. E poi vediamo le altre pagine che riguardano la provincia di Pescara, in particolare in questo caso siamo a Bussi, la Gatta Filebis, progetto credibile, a Loreto Aprutino, quasi un prebiscito per Gabriele Starinieri, metteremo a frutto i tanti finanziamenti, Gino Cantò, dall'opposizione al governo, Gino Cantò è il nuovo sindaco di Cepagatti e tra le più votate c'è la neoconsigliera Annalisa Palozzo che è stata eletta con 681 voti, anche in questo caso si tratta di un grande risultato per Annalisa Palozzo che è anche consigliere provinciale di Pescara. Dalla provincia di Pescara ci spostiamo nell'Aquilano, le elezioni in provincia dell'Aquila, la legge di Dorazio, vedete il titolo, il mio successo contro la politica dell'insulto, San Benedetto dei Marsi, netta affermazione su Di Cesare e Cerasa, gli avversari abbiamo pagato le divisioni, adesso vigileremo gli altri risultati. Massa d'Albe vince Nazareno Luce, Doricola Paraninfi ha sbaragliato in questo caso la concorrenza, è stato eletto sindaco Scanno, due donne in consiglio, Castella Fiume in Corona Perozzi, l'unica sindaca nell'Aquilano a Barete, Gattuso, rieletto, festeggia il decennale, da sindaco a Lucoli Chiappini è stato il sindaco eletto, anche in questo caso si tratta di un risultato molto ampio, se la vista non mi inganna, 82,41%. Difonso ha battuto la Roccaforte Rossa, siamo a Torino di Sangro, il neosindaco si gode la vittoria, l'uscente priori sconfitto di Tanetta, ma ho segnalato fatti gravi a Carabinieri e Prefettura. Proseguiamo, i tre sindaci rieletti, siamo ancora in provincia di Chieti, premiati per il lavoro svolto, Fallo, Pizzo Ferrato e Villa Santa Maria hanno rieletto i sindaci uscenti, a Villa Santa Maria Giuseppe Finamore, a Frisa Nicola Labrozzi, e vediamo in alto a Frisa Nicola Labrozzi, poi in basso a Fallo Luigi Mantelli, però il sindaco eletto è Alfredo Salerno, a Pizzo Ferrato Palmerino Fagnilli con il 76% è stato rieletto primo cittadino. Lasciamo dunque l'ampia pagina che riguarda le elezioni, almeno dalle pagine del centro, poi torneremo a parlare con le pagine del messaggero e del quotidiano La Città sulle elezioni, vedremo anche un paio di servizi, ora vediamo altre notizie, cronaca regionale dal centro, l'aeroporto cresce, salgono a 54 i voli settimanali, parliamo dello scalo di Pescara che cresce, dati alla mano, sicuramente importante questo salto in avanti dell'aeroporto di Pescara. E poi ancora Pescara, erosione, sospesi i lavori, il comune blocca le ruspe, questo è il titolo di apertura della prima pagina, dopo le proteste i bagnatori vincono la battaglia, il cantiere riaprirà in autunno e le transenne saranno rimosse entro sabato, l'annuncio del sindaco Alessandrini e dell'assessore Teodoro e a Francavilla il bagno si fa in mezzo ai massi, l'erosione sul tratto più a nord del litorale ha fatto emergere grosse pietre. Lo scandalo delle menze, siamo a Pescara, malori in classe, tutta la scuola sotto esame e domani arriva la marina di Pescara, la barca dell'Ail, il progetto di velaterapia riguarderà un gruppo di pazienti ematologici assistiti da un'equip medica. La provincia vende appartamenti e terreni, il piano per salvarsi, siamo ancora alla pagina di Pescara servono 4 milioni entro l'anno, presto l'avvio delle procedure per l'alienazione dell'ex Napolplast della sede di Via Battisti il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, dice contiamo di farcela. Andiamo avanti, strisce pedonali da rifare via ai lavori in mezza città a Pescara e intanto è stata avviata la riqualificazione nella zona di Porta Nuova tra Via Tibullo e Piazza San Luigi. Allegri a Pescara tra campo e revival, mattino e pomeriggio al centro vestina di Montesilvano a pranzo la rimpatriata a tavola con Giovanni Galeone, vi avevamo proposto ieri il servizio della visita di Massimiliano Allegri a Pescara, la lezione di Max, il calcio e divertimento, il tecnico campione d'Italia ha allenato ieri 103 ragazzi del Curi Junior Camp. Siamo a Montesilvano, la pagina che si apre con la cronaca, picchia l'ex moglie in strada arrestato, il 46enne voleva controllare il cellulare della donna temendo una relazione con un altro, la vittima è finita in ospedale. E poi sulla strada Parco, scritta razzista, sollecitata al comune la cancellazione, e poi comune moroso con i dipendenti, nota della Wille, in base al nuovo contratto di lavoro, l'ente, come leggiamo da questo articolo, deve sborsare 170 mila euro. E in basso, siamo ancora a Montesilvano, il comune celebra le attività storiche, chi ha oltre 30 anni di lavoro può presentare la domanda entro il 16 luglio. Ancora a Montesilvano, menze scolastica, al via le iscrizioni per il prossimo anno, spoltore, corsi antincendi boschivi, le elezioni fino al 7 luglio. E poi ancora spoltore, trasporto giornaliero alle terme per gli over 60. Sosta a pagamento, albonamenti al via, si spostiamo a Francavilla, venerdì entrano in vigore le strisce blu, gli stagionali in vendita al comando di Polizia Municipale. A San Giovanni Teatino il sogno promozione del San Buceto svanisce ai rigori. Siamo alla pagina di Chieti del centro in provincia per parlare della tragedia sulla provinciale Chietitollo. Auto contro moto, due morti, il guidatore ferito accusato di omicidio stradale positivo ad un mix di droga ed alcol, da come leggiamo in questo articolo. Scomparso da un anno a Guardia Grele, ora lo cercano con i droni. Giornata di controlli nella zona dove Benito della Penna fu visto per l'ultima volta, in campo anche il laboratorio di medicina veterinaria dell'Università di Teramo. Siamo in basso, violenza sessuale in Ateneo condannato, pena di un anno e sei mesi per un universitario che ha palpeggiato e aggredito una studentessa. Proseguiamo, pagina di Teramo del centro, la sparatoria di Castelnuovo uccise ladro in fuga per la gente, torna l'accusa di omicidio colposo. E poi a Colledara, fumo nel traforo, chiuso ieri per tre ore, allarme per un cortocircuito all'impianto elettrico, la rabbia degli automobilisti bloccati. E poi operazione della polizia stradale di Teramo e Giulianova, drogati, ubriachi e la guida, la poststrada ritira. Otto patenti, tecnici in sciopero, laboratorio analisi, siamo a Teramo, sono da soli di notte, senza il medico di turno, la Will indice la protesta per giovedì con possibili repliche il 19 ed il 26 di giugno. Ci spostiamo a Giulianova, scoperto il borseggiatore della spiaggia, i carabinieri denunciano un romeno sorpreso mentre nasconde tre portafogli in una siepe. E a Giulianova muore in mare per un malore, la vittima è un anziano turista di Roma, la tragedia davanti allo stabilimento Palneare, l'arcobaleno. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro, la risposta al crimine, presa la banda degli assalti ai benzinai, tentano di rubare ai distributori di Pianola e Sant'Elia, inseguiti e arrestati da polizie e carabinieri, tre romeni in trasferta. E poi, cronaca giudiziaria, palazzo crollato in centro, nessun colpevole, confermato in appello la sentenza di assoluzione a carico di imprenditore e committente. E poi la fresta per nonno Antonio, per lui 107 candeline, compleanno record per l'ultracentenario originario della frazione di Pozza di Preturo. Inchiesta sui falsi certificati, siamo ad Avezzano, scarcerati Panunzi, Arioli e Macerola, il riesame accoglie ricorsi, libera anche la di Biase, l'ex assessore regionale, una vicenda assurda, sono onesto. E poi, incidente a Cellano, fuoristrada con l'auto, due feriti. E poi, premio internazionale a Galbiati, evento dell'Accademia Le Muse a Firenze, riconoscimento al team della Lundfrei. In basso, la nonna di Secinaro, brinda i suoi 105 anni, dunque dopo i 107 anni di nonno Antonio, la Loretta Maggi, la nonna di Secinaro, la più longeva della valle su Bequana, compie 105 anni. Auguri, ovviamente, anche a lei. Siamo arrivati alle pagine dello Sport del Centro, ma dobbiamo attendere perché ci attendono invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e del quotidiano La Città. Tutto questo dopo qualche attimo di pubblicità. Seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Ripartiamo dalla politica destra contro Dem. Il primo cittadino finisce al ballottaggio. Siamo a Teramo per parlare proprio del ballottaggio del 24 di giugno tra Giandonato Morra e Gianguido d'Alberto. In basso, poi invece, Civitella del Tronto e Nereto per Di Pietro e Laurenzi. Le percentuali sono bulgare. Alba Adriatica, Casciotti eletta sindaca con il 41,99%. Teramo Morra alla sfida contro D'Alberto. Ne parlavamo prima. Il capolista chiederà il consenso solo di chi appoggia il centro-destra. Tutti soddisfatti per questo esito. Il vero rebus era il competitor. E dunque le elezioni e i dati di domenica hanno chiarito tutto. In questo caso, Rocchetti amareggiato, gioco sporco contro Di Noi. E poi la passionaria, il flop dello 0,88%, delusa dalle divisioni della sinistra. Lo ha detto Paola Cardelli. A Silvi, Comignani e Scordella che testa a testa, 5 stelle più votati, ma all'opposizione. Dalberto, fatto un piccolo miracolo, ha detto l'esponente di centro-sinistra. Giovanni Cavallari, felice del 10,24%. Non mi aspettavo questo risultato. Cardelli, dispiace molto l'esito deludente dell'unica lista di sinistra. In basso, Mauro Di Dalmazio e l'alleanza civica all'11,9%. Ora al lavoro, dentro e fuori. Il Consiglio e poi l'esercito degli zero voti in 38, privi di consenso. Morra, ora rilanciamo il centro-destra, ha detto l'ex assessore regionale che ovviamente parteciperà a questo ballottaggio con l'appoggio proprio dei partiti e delle liste di centro-destra. I pentastellati raddoppiano i voti, Rocchetti, ma ancora non basta. Covelli, invece, al 5,14%. Se me l'avessero detto, cinque mesi fa, ci avrei messo la firma. Le elezioni nel Pescarese, sei sindaci rieletti, ma nessuna donna. Il caso di Pietranico, soltanto tre liste Fantoccio contro Del Biondo, che incassa il 91,2%. I verdetti a Loreto, Cepagatti, Rocca Morice, Nocciano, Pianella, San Valentino, Abruzzo Citeriore, Turri Valignani. Bussi conferma la fiducia a Salvatore Lagatta. Sconfitto, l'ex presidente della provincia di Pescara, Pino De Dominicis, nei comuni del Chietino. Tre riconferme e due new entry. Elezioni nell'Aquilano, a Scanno la vittoria di Mastro Giovanni. Ora torni il Sereno, l'avvocato 45 anni, abbattuto nettamente. Amedeo Fusco, Barete e Lucoli non cambiano, vincono Gattuso e Chiappini. Dorazio sbaraglia tutti, Maurizio K.O. a Castella Fiume. Questa è l'analisi del voto anche in provincia dell'Aquila. Noi lasciamo, almeno per quanto riguarda il messaggero, le pagine elettorali. Siamo alla cronaca di Pescara, intossicati a scuola, confermato il batterio. Analisi sugli alimenti. Lo zooprofilattico trova il Campylobacter nelle feci, ma va approvato il nesso con i cibi delle menze scolastiche. E poi commercianti divisi e centrodestra accusano Cuzzi per la notte del flop, quella dell'8 giugno. L'assessore tradito prende le distanze dai negozianti. Forza Italia oggi presenta il conto sulle grane estive. In basso, siamo a Montesilvano, scritta razzista, inneggia a Salvini. Indagini, scacco alla cupola dei giocattoli cinesi scoperti a Roma. Tre ingrossi che rifornivano i negozi di Pescara, commerci pericolose, senza certificazioni, un colpo da 2 milioni. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara, 850 mila articoli. Picchia rapina ex moglie in cerca di rivali. Sul telefonino è accaduto a Montesilvano. L'uomo ossessionato dalla gelosia è finito in carcere. Per lei salvata dai carabinieri. 40 giorni di prognosi. Caffè Venezia, nuovo sfratto in arrivo. Sipario sulla attività. L'Aquila pugnalata dopo la lite stradale. Movida tinta ancora di sangue. Il ragazzo è stato accoltellato dopo lo scontro fuori da un locale notturno. E poi cortocircuito nel traforo, code chilometriche sulla A24. Operazione Polizia Carabinieri. Tentano furti i distributori, tre romeni arrestati. E poi sul Mona, l'Università al Canto del Cigno. Ora si punterà tutto sui master. Infine Avezzano, certificati falsi. Scarcerati, panunzi e arioli. Proseguiamo pagina di Chieti. Del messaggero ubriaco, drogato e senza revisione. Si schianta e ammazza due giovani. È accaduto tra Tollo e Canosa Sannita. E poi vasto. Matrimoni combinati in tre. Neiguai, Lanciano, processo a Don Facchini. Altri test lo inchiodano. In basso la sentenza, palpeggiò studentessa, condannato. Un giovane. Siamo a Teramo, uccide un albanese in fuga. Gente rinviato a giudizio. E poi, turista si accascia e muore in mare. Vedete la foto di un soccorso, non quello purtroppo di ieri, che non è bastato per evitare il decesso di un 83enne che ha avuto un malore. È stato soccorso prontamente in spiaggia. Ma non ce l'ha fatta. È accaduto a Giulianova. La terra agli inquilini. Noi potiamo i pini. Voi pagate la querelle di Giulianova. E poi invece la cronaca, trentenne ferita nella scarpata, lite con l'amico. Era sotto shock, dunque chiarita questa vicenda. Siamo arrivati allo sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Ripartiamo dal voto. Voto in Abruzzo. Tutti si dichiarano vincitori, come spesso accade dopo le elezioni. Partito Democratico. Movimento 5 Stelle. Forza Italia. Soddisfatti del risultato alle elezioni amministrative. E poi la cronaca, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara. 850 mila giocattoli pericolosi. Il prossimo consiglio di Teramo con le due ipotesi. Vedete questa pagina con voti e nomi dei possibili consiglieri in caso di vittoria al ballottaggio di Giandonato Morra. Vedete il primo schema. Il secondo schema. Ipotesi consiglio comunale con la vittoria al ballottaggio di Gianguido D'Alberto. Già si fanno i conti, ma bisognerà attendere il 24 giugno con il ballottaggio proprio tra Giandonato Morra e Gianguido D'Alberto. Vedete questa bella foto con la stretta di mano tra i due candidati. Dopo la certezza del ballottaggio, Gatti Traina, la coalizione di centrodestra con il 20%, Movimento 5 Stelle, primo partito, Marocchetti e Flop di Dalmazio e Cavallari. I due. Perché? Risultato straordinario, voti a sindaco e liste allineati. Giandonato Morra evoca uno dei problemi che ha indebolito in partenza il predecessore. Allora, dopo tanti numeri, tanti nomi, possiamo andare a vedere il primo servizio che riguarda proprio le elezioni di Teramo con il quadro della situazione. A Teramo sarà ballottaggio tra Giandonato Morra e Gianguido D'Alberto. Il risponso delle urne premia la quasi totale compattezza di un centrodestra che, nonostante alcune diatribe interne e nonostante la caduta anzitempo della giunta Brucchi, tiene botta e si conferma la coalizione guida in città. Morra approda il ballottaggio con un buon vantaggio, avendo ottenuto il 34,62% delle preferenze contro il 21,13% di Gianguido D'Alberto. A trainare il centrodestra, in particolare, la lista civica Futuro In di Paolo Gatti, che sfiora l'11%, seguita da Forza Italia, 8,8% e Fratelli d'Italia, 7%. D'Alberto incassa il contributo del Partito Democratico, 8,6% e la civica Insieme Possiamo, 7,75%. Così gli sfidanti del secondo turno del 24 giugno. E cambia la campagna elettorale diametralmente perché ci saranno due candidati sindaci e quindi dovremo vedere da un lato un nuovo dialogo con i cittadini, approfondendo alcune tematiche e anche raggiungendo quelle che sono le categorie o alcuni posti che non abbiamo raggiunto, anche se io credo di averli raggiunti tutti, ma trovare un'altra sintesi. E anche continuare a parlare con i cittadini, con quelli che non sono andati a votare, magari oggi era una giornata bellissima, speriamo piova il 24, ma anche convincere anche altri elettori perché sette liste erano tante sulla bontà del progetto, ascoltarli, confrontarci. La politica è la cosa più bella del mondo se è fatta con una prospettiva sobria, se è fatta con senso di parte, con senso di fazione, non serve a niente. Qui dobbiamo cercare di amministrare bene Teramo. Ma veramente è un risultato importante, tutt'altro che scontato, se consideriamo il risultato del 4 marzo, che comunque dava l'area alternativa al centro-destra molto indietro, quindi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Adesso dobbiamo ripartire da zero con questa nuova elezione, perché si tratta di una nuova elezione, con grande entusiasmo, recuperando le forze, siamo pronti. Questi 15 punti di distacco da Morra non la preoccupano? Non mi preoccupano perché credo che comunque il ballottaggio sia una nuova partita. Tra l'altro anche le ultime esperienze, sia delle amministrative terramane, ma pensiamo anche all'Aquila, dimostrano che comunque con il ballottaggio si apre una nuova storia. Tra l'altro la partita sarà tra la discontinuità che noi rappresentiamo e la continuità con la vecchia amministrazione che è rappresentata dalla maggioranza, dalla collezione di centro-destra. Sarà inclusivo verso chi ha perso? Ma in realtà io sin dall'inizio ho detto che non intendo fare apparentamenti politici, in vista appunto di questo ballottaggio, quindi resta questa posizione. Quindi nessun apparentamento. Si va avanti con questa coalizione, che è la coalizione che vuole esprimere una discontinuità chiara, un progetto, una linea che ha manifestato fin dall'inizio. Quindi per quanto riguarda gli apparentamenti non c'è alcuna apertura. Non sfonda a Teramo il Movimento 5 Stelle, laddove il candidato Cristiano Rocchetti porta a caso un risultato del 16,48% di gran lunga superiore alla lista pentastellata che si ferma al 13,14%. Superano la doppia cifra di percentuale l'ex assessore regionale Mauro Di Dalmazio, di Al Centro per Teramo e Azione Politica, 11,49%, e Giovanni Cavallari della Bella Teramo, 10,24%. Risultati ancora più marginali per Alberto Covelli, Abruzzo insieme e Popolari con Teramo, che supera di poco il 5%, e Paola Cardelli della sinistra, che non arriva all'1%. E noi con il percorso che abbiamo fatto da soli, senza allearci con partiti politici, abbiamo fatto un grosso risultato. Da considerare anche le aspettative degli altri, che comunque ci davano ad una percentuale che oscillava sul 2%, al massimo al 3%, e raggiungere il 5% da soli con 63 candidati che non avevano mai avuto esperienze politiche, è un risultato assolutamente soddisfacente. Noi continuiamo a parlare dei risultati delle elezioni, soprattutto a Teramo, apparentamenti serpenti, ma sotto banco già si lavora questi apparentamenti, e poi Cozzi, il più votato, con 831 preferenze. Adesso comincia una nuova partita, l'ho appena detto, l'abbiamo appena ascoltato, Giaguindo d'Alberto al microfono di Tania Bonnici-Castelli, non voglio accordi, punta tutto sulla discontinuità rispetto al centrodestra. Vedete poi questa pagina con tutti i risultati, lista per lista, vedete anche quest'altra pagina, lo stesso per le altre liste scese in campo a Teramo. Vediamo invece l'analisi del quotidiano La Città su quello che è accaduto in altri centri, in altri comuni, soprattutto del Teramano. Al Badriati casceglie ancora un sindaco donna, Antonietta Casciotti sfiora il 42% dei consensi e subentra a Tonia Piccioni distanti le altre liste. Ad Atri, Ferretti vince nel segno della continuità del sindaco uscente a Stolfi. E poi il sindaco di Silvi lo deciderà il ballottaggio Comignani al 35%, Scordella al 33%, si sfideranno tra due settimane, 5 stelle ancora battute. Allora andiamo a vedere e ascoltare soprattutto i due candidati di Silvi, candidati a sindaco, che parteciperanno al ballottaggio del prossimo 24 giugno. Come nelle previsioni si andrà al ballottaggio a Silvi, unico comune abruzzese dopo Teramo con più di 15.000 residenti. A contendersi la carica di sindaco saranno Francesco Comignani con al suo fianco le liste Democratici per Silvi, Silvi ripartiamo e Obiettivo Silvi, che ha ottenuto il 35,56% e Andrea Scordella con il 33,33% che ha invece l'appoggio di quattro liste di centrodestra, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Idea. Restano fuori dalla corsa sindaco l'esponente del Movimento 5 Stelle, Simona Stolfi con il 24,21% e Antonio Del Vecchio con le liste Silvi in comune e Giovani in comune con il 6,88%. Come previsto andremo al ballottaggio, non eravamo sicuri con cui facevamo il ballottaggio, da questa notte certo andremo con il centrodestra. Permettetemi di ringraziare innanzitutto tutti quei cittadini che ci hanno riconfermata la grande fiducia, quindi un ringraziamento a tutti i consiglieri della mia lista e anche grandi complimenti sia ad Andrea Scordella per il centrodestra che ai 5 Stelle che hanno ottenuto un grosso risultato e anche a Tony Del Vecchio che ha avuto il coraggio di fare anche una lista di giochi. Dobbiamo essere bravi soprattutto a cercare di portare la gente a votare perché il dato eclatante è stato che rispetto alle votazioni di quattro anni fa che si sono venuti a votare 1.250 persone in meno, quindi bisogna cercare di recuperare i delusi che non sono venuti neanche a votare. Stiamo capendo cosa fare e come muoverci, il dialogo sicuramente con tutti anche se siamo convinti che la forza della coalizione ha dimostrato che ci siamo, una coalizione a trazione lega, un grande risultato del mio partito e speriamo di portare avanti l'obiettivo che è quello di vincere al ballottaggio. A freddo soddisfatto del risultato ottenuto? Sicuramente soddisfatti, l'appello che possiamo fare è quello di aver intrapreso la strada del cambiamento e vorremmo continuare su quella via, dunque chiederemo proprio agli elettori di continuare sul cambiamento. Vediamo i numeri delle elezioni di Silvi, Francesco Comignani 35,56%, Simona Stolfi del Movimento 5 Stelle 24,21%, Andrea Scordella centrodestra 33,33% e poi Antonio Del Vecchio 6,88%, Comignani appoggiato da tre liste civiche vicine al centro-sinistra, Silvi ripartiamo, Dem Silvi e Obiettivo Silvi. Vedete quest'altra pagina, in rosso Montonio Arvomano vince Facciolini, il sindaco Pacere e poi Notaresco la vittoria di Bonaventura. Proseguiamo, Laurenzi conquista il comune a Nereto, Civitella del Tronto plebiscito per la Di Pietro, poi vedete i risultati con i nuovi sindaci di Controguerra e Castilenti. Lasciamo la pagina elettorale, questa volta definitivamente, siamo alla pagina che riguarda la cronaca, traforo bloccato per un principio d'incendio, centralina della ventilazione in tilt, causa fumo in galleria, stop di tre ore al traffico, diretto verso l'Aquila e poi incidente in montagna, fuori pericolo, l'escursionista precipitato sul Gran Sasso. Acqua sicura, Bracco chiede di accelerare, ad un anno dall'incidente poco o nulla sarebbe stato fatto per i laboratori di fisica, dice il consigliere regionale. E poi Penna Sant'Andrea, defibrillatore automatico lungo la strada statale 150. Andiamo ancora avanti, la cronaca a Nereto, anziana ferita trovata in casa dopo cinque giorni, è necessario l'intervento dei vigili del fuoco e i carabinieri per salvare la vita ad una settantasettenne. E poi a Martinsicuro, Memorial Guercioni, due giornate dedicate alle Rosse di Maranello. Più carabinieri per garantire sicurezza, siamo a Giulianova, arrivati in città i militari dell'intervento operativo del Reggimento Lazio. E poi turista romano, stroncato da un infarto mentre fa il bagno a Giulianova, se denunce per guida sotto l'effetto di alcol e droga i controlli della polizia stradale. E poi in basso, grandi numeri per il festival delle bande musicali di Giulianova. Siamo alla pagina di Roseto, dal quotidiano La Città, il banese è beccato dai carabinieri in possesso di cocaina purissima. E poi bando per gli insediamenti all'autoporto, si sbroglia la matassa per attirare gli imprenditori nella zona inutilizzata. Pineto, la stagione estiva comincia con la manifestazione Apriti Sole. Siamo arrivati allo sport, lo sport che parla del Teramo, Zichela il test Teramo, frenare la discesa, l'allenatore è chiamato ad invertire il trend in tre campionati, solamente 26 vittorie. Ora c'è il mercato. E in basso il basket, Germano d'Arcangeli e il nuovo coach degli Sharks Roseto, dunque parliamo di basket di serie a due maschile, la collaborazione con la Stella Azzurra porta in dote il timoniere della prossima stagione. Tra qualche giorno ci sarà la conferenza stampa per illustrare i dettagli di questa scelta. Siamo alle pagine dello sport del centro, il via con il fenomeno e i big della musica, Ronaldo, Robbie Williams e la Garifullina alla cerimonia inaugurale dei campionati del mondo. Vedete altre pagine che riguardano la manifestazione calcistica più importante, ma l'evento sportivo più importante in assoluto. Noi parliamo però del Pescara, delle trattative, Campagnaro resta, a Brugman e un rebus, il difensore verso la conferma, l'uruguaiano al centro del mercato. E poi in basso Teramo, il primo colpo e l'attaccante Piccioni, serie C trovata all'intesa con l'ex bomber del Sant'Arcangelo, ancora voci su Candeloro in società. E poi storica Acqua e Sapone, batte la lupa Renze ed è campione l'Italia. Possiamo vedere le immagini della festa di ieri sera a Bassano del Grappa al Palasind per il trionfo della formazione. Che porta a casa uno storico studetto, con, vedete la foto, le immagini, pardon, e l'entusiasmo dei tifosi dell'Acqua e Sapone al seguito della squadra in terra vicentina. Vedete anche uno dei gol, questo in questo caso di Jonas, le reti di questa partita entusiasmante che si è chiusa con il risultato di 4 a 2 per l'Acqua e Sapone che dunque conquista lo scudetto e la terza formazione abruzzese che vince il tricolore. Vedete questa è la rete di Calderolli che mette il sigillo sulla vittoria degli abruzzesi a 8 secondi dalla fine. Poi la grande festa per la conquista del tricolore. Vi dicevo, terza formazione abruzzese che conquista lo scudetto del calcio a 5 dopo il Montesilvano nel 2010 ed il Pescara nel 2015. Complimenti dunque all'Acqua e Sapone. Noi andiamo avanti leggendo altre pagine che riguardano il calcio a 5 e la vittoria dello scudetto del quintetto abruzzese. Miracolo abruzzese con stile e passione, Barbarossa in lacrime, vittoria storica. E poi il basket, Roseto d'Arcangeli è fatta, Sherrod sulla via del ritorno. In alto, Atletica, cadetti abruzzesi in evidenza a Fidenza, Wisp, trail secondo posto per l'Abruzzo e Molise al trofeo delle Regioni. E poi, il calcio di Serie D, Giulianova se ne va anche Piccioni, ufficiale napolano-lavastese che vuole Bruni, bizzarri, al Morro d'Oro, rivoluzione nel club giallorosso a Giulianova. Dunque si attendono novità anche a livello societario. Andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero prima di chiudere. Max Full Immersion a Pescara. Ieri Allegri è stato nella nostra regione a Pescara, a Montesilvano, per seguire il camp della Curi Pescara. Possiamo vedere a tal proposito il servizio su questa importante giornata di festa per il calcio giovanile abruzzese. Il servizio curato da Andrea Costantini. Nuova giornata in Abruzzo per Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus era il più atteso stamani allo Junior Camp organizzato dalla Curi Pescara, società di settore giovanile presieduta da Totto Martorella, compagno di squadra e grande amico di Allegri. Il tecnico bianconero non ha rilasciato dichiarazioni, ma è arrivato con grande puntualità stamani al centro sportivo Zampacorta di Montesilvano, struttura che dallo scorso 8 giugno e fino al 15 ospita il camp aperto ai bambini nati dal 2002 al 2012. Qualche momento dedicato agli amici e poi subito in campo tra i ragazzi. Allegri che più volte in stagione ha posto l'accento anche sui settori giovanili e sulle cose che andrebbero riviste. Si fa troppa teoria, ma in realtà servirebbe più pratica. Questa la sintesi dell'Allegri Pensiero che ha regalato ai piccoli atleti una grande emozione. E soprattutto divertimento. con rispetto e educazione che sono le cose più importanti. Siete giovani, avete una vita d'amante, avete tanto da imparare e queste giornate, soprattutto questa settimana dove avete la possibilità di divertirvi, di conoscere, di stare insieme, credo che sia una bellissima cosa e siete fortunati. E quindi sono più fortunato io oggi a essere in mezzo a voi. Sì, noi stiamo cercando di far affezionare ancora di più Massimiliano Pescara anche se il suo amore per Pescara è già declamato e consacrato. Ma è importante invece dare la possibilità ai ragazzi di vivere una giornata a contatto con un grande personaggio del calcio. Quindi per noi è un giorno di festa, è un giorno molto importante. Tra l'altro è la prima edizione di questo Curi Pescara Junior Camp appunto impreziosita dall'Allegri Day. Massimiliano starà con noi sia nella mattinata di oggi sia nell'allenamento del pomeriggio e poi c'è la consegna degli attestati a ciascun partecipante a seguito dell'allenamento pomeriggiano. Però mi preme sottolineare il fatto e ringraziare veramente di cuore Massimiliano che con tutti gli impegni che ha, con i suoi motivi strettamente personali dell'ultimo periodo, è riuscito nonostante tutto a essere presente oggi. Quindi veramente grazie. Io dico una cosa, io ricordo che quando da piccolino ho visto Careca, un centravanti che per me è uno dei più forti, venire a trovare all'Adriatico il suo amico Deloreo Junior e io ero piccolino, vedere il grande personaggio del calcio lì vicino a me, poterlo toccare, potergli dire solo buongiorno per me era un'emozione bellissima. Ci piacerebbe far replicare ai ragazzi quella stessa emozione. Io penso che questo 11 giugno 2018 per molti di loro sarà una giornata indimenticabile. E' sempre un piacere rivedere Massimiliano Allegri a Pescara. A proposito del Pescara, il mercato che inizia a fare sul serio Scognamiglio, Celiento e Celi nel Mirino è rientrato, Palazzi giocherà anche nella prossima stagione con il Pescara, rinnovato il prestito con l'Inter. Di tutto questo si è parlato tra l'altro ieri sera nella trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi con ospite il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani che ha anche parlato di questa trattativa in essere per una eventuale cessione del 70% del pacchetto azionario della società Bianca Azzura top secret su nomi e altro proprio su questa trattativa che è nel vivo. E poi serie D Real Giulianova lascia Piccioni e poi le condizioni di Costantini e dunque a Giulianova si guarda al futuro ma sicuramente dopo le dimissioni delle ultime ore c'è un po' di apprezzione fra i tifosi. In basso si parla del Teramo con il direttore sportivo Sandro Federico che ha visionato nelle ultime giorni nelle ultime ore migliori primavera delle squadre di Serie A. Vediamo anche l'altra mezza pagina del messaggero Grande Acqua e Sapone e Scudetto gara 5 al Cardiopalma a Bassano con la Luparense sconfitta per 4 a 2 la festa della formazione abruzzese con questo meritato Scudetto. Noi chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi la Gazzetta dello Sport il Nisha dice sì all'Inter e dunque Nainggolan potrebbe da un momento all'altro firmare per la formazione nerazzurra e poi mondiale meno 2 Brasile attacco al mondo la Sele Sao prepara a Sochi la sfida a Messi e Cristiano Ronaldo sono queste tre Brasile Argentina e Portogallo le favorite e poi il Corriere dello Sport Justin Time Raja Inter fissato il prezzo anche il Corriere dello Sport parla della possibilità del passaggio di Nainggolan dalla Roma all'Inter infine tutto sport Sirigu no al Napoli e rinnova con il Torino e poi Golovin esclusivo un giocatore da Juve poi torniamo a leggere una notizia che riguarda la tragedia di Davide Astori ricorderete qualche mese fa la morte improvvisa del capitano della Fiorentina la perizia Astori aveva una patologia cardiaca questi i risultati della perizia medica effettuata sul giocatore Viola e poi il mercato con Nainggolan Spalletti se la gode Bacca consegna Castilejo al Milan così il Villareal riscatterà il bomber del Milan e poi l'Emilia va a caccia di giovani talenti Bologna Parma Spall e Sassuolo insieme in Serie A per l'Emilia Romagna davvero un poker di squadre che non c'era mai stato in passato siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che ritroverete domani puntuale alle 8 io ringrazio Silvia Gentile e Gianluca Fortunato in regia ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale buona giornata A presto Grazie a tutti